Siamo con il dottore Salvatore Ronzini che è primario del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania ma responsabile anche dell'intero dipartimento dell'asle di Salerno. Allora dottore qualche sera fa lei è stato chiamato ad urgenza, è arrivato qui presso l'ospedale San Luca e ha subito capito che qualcosa di strano c'era. Sì veramente le dottoresse che erano in servizio avevano già brillantemente risolto il caso c'era una una paziente già in saloperatoria in stato di shock emorragico per una ritenzione placentare cioè hanno dovuto fare un secondamento manuale dell'anno levato praticamente la placenta che era rimasta rimasta in utero chiaramente se esiste una placenta esiste anche un bambino una placenta senza bambini è un pochettino difficile per cui è stata data comunicazione al pronto soccorso e quindi conseguenza il pronto soccorso ha avviato tutte le procedure per la ricerca di questo fetolino poi in nottata ho saputo che avevano trovato un feto morto presso l'abitazione di questa signora la signora mi riferiscono le colleghe e le mie collaboratrici che diceva di non sapere di essere incinta ma per quel poco poi capiamo anche lo stato confusionale per una grossa perdita ematica che che aveva avuto fortunatamente per la donna si è risolto tutto positivamente sta ancora da noi in osservazione e credo che nella giornata di domani possa anche essere essere dimessa per quanto riguarda certo lascia un po' la mano in bocca il fatto che che se ne dica del nostro sistema sanitario nazionale ma è uno dei migliori sistemi sanitari che esistono al mondo prevede un'assistenza capillare e prevede un'assistenza completa basta arrivare al sistema sanitario a qualunque struttura possono essere assistite durante tutta la gestazione e possono se vogliono non essere nominate c'è una dizione ben precisa figlio neonato da madre che non vuole essere nominata può essere che questa signora era venuta da non tanto tempo per cui non frequentava nessuno ma basta che se l'avesse detto certamente si rivolgeva ad una qualunque struttura chiaramente è stato vicino Vallo sarebbe venuta da noi e ci si pigliava carico poi lei era libera di dire dice no ma io non voglio riconoscere questo mio figlio e qual è il problema? Ma che cosa può essere accaduto? L'idea che mi sono fatta io è che ha avuto difficoltà nel partorire lei da sola per cui ha fatto manovre di stiramento che hanno potuto insomma impreda forse anche al panico poi quando ha visto che perdeva molto sangue chiaramente giocoforza ha dovuto chiedere aiuto credo perché adesso non so chi ha chiamato il 118 come è arrivata però insomma stava in una condizione emorragica seria è un primo caso che si verifica di questa entità? Sì devo dire a mia memoria sì proprio così è il primo caso che ci è arrivata qualche donna che aveva partorito ma per sua volontà a casa con la placenta ancora in utero ci è capitato però che arrivasse un'emorragia da ritenzione placentaria ma anche al secondo me fino adesso no ecco lei ha detto prima non mi capi di me più infatti lei ha detto prima quando insomma abbiamo dato l'allarme quando abbiamo fatto partire le indagini abbiamo anche sperato di ritrovare il bimbo in vita ah sì sì questo sì perché esaminata la placenta è vero che stabilire il tempo fra quando lei è venuta in ospedale quando ha partorito anche se non doveva essere molto e allora a volte come si legge pure nei servizi di cronaca hanno trovato quel sentivano dei vagiti venire da quel cassonetto e con maglia insomma poco di speranza c'era perché la placenta era di una gravidanza a termine quindi poteva anche diciamo teoricamente aveva partorito aveva occultato il neonato ma poteva essere ancora vivo